Sempre più numerosi i comuni del Varesotto che raccolgono l'invito della questura in campo contro le truffe e i danni delle persone anziane. Parliamo dei cosiddetti reati porta a porta che imbrogliano e derubano i nostri nonni direttamente nelle loro case, facendo leva sulla solitudine, l'ingenuità, il piacere di scambiare due chiacchiere con individui apparentemente affidabili, in realtà privi di scrupoli. Oltre all'ormai collaudata campagna di sensibilizzazione via social, i consigli della polizia, non apriti agli estranei e in caso di dubbio preoccupazione contattate al 112, si sono tradotti in una locandina a disposizione di chiunque voglia farsi tramite di questo importante strumento informativo. Associazioni, amministratori di condominio e naturalmente sindaci. Come dicevo abbiamo trovato subito la risposta e la condivisione di alcuni sindaci. Al momento abbiamo diffuso le nuove locandine nei comuni di Varese, di Bodio, di Sesto Calende, di Porto Ceresio, naturalmente nelle sedi dei nostri commissariati di Bustarzizio e di Gallarate e attendiamo la possibilità anche e siamo a disposizione per diffonderle presso altri comuni o presso altre associazioni o enti che ci dovessero chiedere di ottenere la disponibilità.